Amici sportivi, lo stadio dell'Isola di Pasqua è in delirio! Le squadre sono pronte! E poi? Sì! La sfida della Palla Strike è appena cominciata e si preannuncia piena di sorprese con lo straordinario film in DVD un'avventura mozzafiato ricca di emozione, risatissime e grandi match! Per voi, nei pacchi doppi di merendine, Kinder e Ferrero Ma non finisce qui! Da febbraio inizia il secondo tempo e la Palla Strike si gioca nel vostro campo! Solpito! Ogni squadra ha il suo simbolo! Aspetta! Quale sarà quello vincente? Il simbolo è in ossa! E poi, siamo ancora in gioco! Palla Strike! I lanci diventano veri! E la Palla Piazza sfreccia a tutta velocità verso l'obiettivo! E allora avanti con la sfida sempre più emozionante! La Palla Strike! Li trovate nelle merendine Kinder e Ferrero E il divertimento continua se cliccate sul sito www.lapallastrike.it La sfida dell'anno è sull'isola di Pasqua!